Blitz delle Fiamme Gialle di Vicenza. I militari del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dalla giudice delle indagini preliminari del Tribunale nei confronti di tre amministratori di una società operante nel commercio di pneumatici, con due unità locali a Vicenza e Sandrigo ed un portale web per le vendite online. Le misure cautelari hanno colpito il vertice del sodalizio, composto da un 56enne di Montegalda, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, dalla compagna una 43enne rumena sottoposta agli arresti domiciliari ed un 58enne per il quale è scattato l'obbligo di dimora a Sandrigo. Secondo le ricostruzioni degli investigatori, il sistema si basava nell'acquisto di pneumatici con emissione di false fatture, con conseguente omissione del versamento dell'IVA e scamotage che ha consentito, grazie all'illecito risparmio di imposta, di cedere i pneumatici alla clientela finale a prezzi illecitamente concorrenziali. In definitiva le indagini hanno permesso di ricostruire l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 28 milioni di euro, con conseguente IVA e VASA per oltre 3 milioni di euro, somma in ordine alla quale le fiamme gialle beriche stanno in queste ore operando il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Vicenza. Gli indagati dovranno rispondere a vario titolo dei reati di emissione di fatture, omessa dichiarazione e bancorotta fraudolenta.